L'energia condivisa ci rende tutti più forti. Scopri le comunità energetiche rinnovabili, un nuovo modo di vivere l'energia, sostenibile per l'ambiente e per le persone. Cos'è una comunità energetica? È un'associazione che produce e condivide energia rinnovabile per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, contribuendo ad abbattere le emissioni di CO2. Chi può partecipare? Possono farne parte tutti. Cittadini, attività commerciali, amministrazioni locali e piccole e medie imprese. Ad esempio, in un piccolo borgo, i cittadini possono unirsi in una cooperativa per produrre e consumare energia da fonti rinnovabili. Condividendo l'energia prodotta dalla comunità, si generano vantaggi, sia di tipo economico che di valorizzazione del territorio, perché si salvaguarda l'ambiente e si crea nuova occupazione. Come costituirla? Chiunque può prendere l'iniziativa, soggetti pubblici o privati, come le persone che abitano nella stessa area, città, quartiere o paese. Si individua un'area per installare l'impianto in prossimità dei consumatori. I membri si organizzano legalmente come comunità energetica rinnovabile. I benefici? Ci sono benefici per tutti, sia per i membri della comunità energetica che per le aree in cui vivono e operano. Benefici ambientali. Si abbattono le emissioni di CO2 grazie all'energia da fonti rinnovabili. Benefici economici. Si riducono di fatto i costi dell'energia elettrica in bolletta. Benefici sociali. Le comunità energetiche favoriscono lo sviluppo di un indotto produttivo locale e la crescita di nuova occupazione. A cosa aspiriamo? Decarbonizzare insieme, realizzando nuovi impianti rinnovabili a supporto delle comunità energetiche, accelerando la transizione energetica.